Sono Federica Pontremoli, faccio e sono sceneggiatrice. Partendo dal presupposto che in Italia il cinema, fino a un po' di tempo fa, era tutto indipendente, nel senso che l'avvento delle piattaforme e comunque delle multinazionali che hanno comprato piccole produzioni e quindi hanno inglobato la produzione più piccola e più debole in giganti invece internazionali. E io ho iniziato proprio con un tipo di cinema in cui la definizione di indipendente era molto sottile rispetto al cinema che si andava a vedere nelle sale. Quindi io ho lavorato con autori come Soldini, Ospetec e Moretti, che oggi stento a definire indipendenti, ma quando ho iniziato a lavorare con loro la differenza non era così tracciabile. Quindi io mi sento di dire che l'indipendenza è l'indipendenza delle idee rispetto alla tirannia del commerciale. E quindi questi panel che abbiamo fatto oggi sono molto importanti per rendere questa libertà un diritto e proteggerla rispetto invece alle richieste di una commercializzazione delle idee che ci sta portando un po' fuori traccia. Io sono genovese e mi sono trasferita da Genova a Roma perché non esisteva proprio il mondo del cinema in quanto mestiere in un altro posto che non fosse Roma. Questa accadeva alla fine degli anni 90, all'inizio del 2000. Questa esigenza di essere in un luogo preciso dove si produceva il cinema oggi si sente molto meno. Dal mio punto di vista si senta quasi zero perché gli zoom ci aiutano a contattare, avere contatti non solo tra di noi nel mondo del cinema nazionale ma anche internazionale. Quindi posso scegliere qualsiasi destinazione dove svolgere il mio lavoro. Per quanto riguarda le produzioni io penso che Milano sia sulla trampolino di lancio. Quindi io spero, ma è una ricchezza che l'Italia dovrebbe avere, c'è un bipolarismo, perlomeno bipolarismo. Questo impegno delle film commission in tutte le regioni è riuscita a sradicare un po' il romacentrismo e Milano ha colto la palla al balzo seguendo anche la parte dietro il set e quindi tutta la produzione. Spero che questo avvenga e penso che stia già avvenendo.